C'è dell'astio e dell'ignoranza da parte di chi ha ben pensato di imbrattare alcuni angoli della città con scritti ingiuriose rivolte al sindaco di piazza. La segnalazione è arrivata questa mattina. Le scritte sui muri contengono insulti e minacce di morte verso il primo cittadino che oggi, a margine di una conferenza che si è tenuta al Museo del Riketz sulla collocazione di un monumento all'interno della sala espositiva, ha commentato in modo lapidario l'accaduto. Non hanno altro evidentemente. Siccome non hanno altro, allora probabilmente devono fare questo. Una bassezza incredibile. In altrettante poche parole di piazza poi liquidato, a margine della presentazione di Trieste Next, le dichiarazioni che il segretario del Partito Democratico Enrico Letta ha rilasciato ieri a Borgo San Sergio nella sua tappa triestina a supporto di Russo. Il segretario Demme aveva dichiarato che il candidato di centro-sinistra rappresenta il futuro, di piazza no. Grazie al mio passato vedo un futuro luminoso per la mia città. Quando penso a Russo Letta penso al trapassato.